Ciao amici di Italia Top Games, bentornati sulle pagine di Italia Top Games o sul nostro canale YouTube omonimo. Nuovo aggiornamento di PES 2018, il primo di aprile, e iniziamo subito a vedere l'aggiornamento live della valutazione della condizione dei giocatori in forma. Troviamo giocatori del Barcellona, troviamo giocatori della Juve, Dybala, Chiellini dopo la vittoria contro il Milan, perché ricordiamo che queste valutazioni sono basate sulle partite di campionato. C'è Icardi che ieri contro il Milan invece un paio di gol le ha sbagliate, c'è anche Caillon dopo il gol contro il Sassuolo, ma metterlo tra i giocatori in forma non mi vede d'accordo. Cioè essere Milica ad esempio, c'è Immobile della Lazio, c'è Gomez dell'Atalanta, Perisic dell'Inter, Matic, che dire della Juve, autore di un gol contro il Milan molto importante. E poi si scende, c'è Belotti del Torino senza la tripletta di ieri, c'è Candreva dell'Inter e tanti altri. E poi invece scende Mertens, giustamente il migliore tra quelli che scendono, 88, c'è Biglia del Milan, che poi non ha giocato così male. C'è Matici della Juve, non lo vedo così negativa alla sua prova, c'è Donna Roma del Milan che ha preso tre gol, ovviamente. C'è Buonaventura del Milan che ha sbagliato un gol importante, un'occasione importante. C'è Charreville della Roma, Romagnoli del Milan, Alisson della Roma dopo il pareggio contro il Bologna. Berardi del Sassuolo, non mi sembra così da mettere tre giocatori poco in forma, è uscito per stanchezza, diciamo, contro il Napoli. Quindi tutt'altro che una partita poco convincente del giocatore del Sassuolo. E allora, oggi abbiamo due cose importanti. Da una parte c'è il bonus prima vittoria. Ogni giorno, ogni giorno avrete la possibilità di raddoppiare i punti, 6.000 GP è praticamente ogni prima vittoria durante questo periodo. Quindi ogni giorno cercate di fare una vittoria per ottenere un super bonus. E poi, poi c'è un agente speciale con due leggende. Luis Figo, che torna in PES, ma è per la prima volta, arriva in PES 2018, e torna anche Diego Armando Maradona. Allora, quanti giocatori ci sono in questo agente speciale? Sono 100, 110, 120 giocatori. 10 neri, 43 d'oro e 67 argento. Allora, andiamo subito a vedere l'elenco dei bersagli. Ovviamente il primo non può essere che Diego Armando Maradona. Subito dopo, un altro dio del calcio, un altro mostro del calcio, dite come vi pare, Cristiano Ronaldo. C'è Griezmann, Oblak e poi c'è proprio Figo, 87. Poi c'è Godin dell'Atletico Madrid, Filipe Luis, Diego Costa, come al solito la PES selection è un po' particolare. Pepe, Coche, Antoni Lopez, Gimenez, l'Atletico Madrid, Vitolo Atletico Madrid, tanto Atletico Madrid, Saúl. C'è uno in squadra, Bernardo Silva, Gabi, poi si scende Orgassia, Assensio, Savic, Iago Aspas, Juan Fran, Diego Lopez, che è in squadra. Rui Patrizio, altro portiere. E poi si scende, c'è anche Bacca. Giocatori del campionato spagnolo, ma non solo. Comunque la PES selection è sempre un po' particolare. Nicolai Cernani, che però nella mia squadra non gioca mai. E poi si scende, si scende, c'è Veloso, Moreno. Insomma, 123 giocatori. Se avete un buon numero di GP, Babacar, del Sassuolo. Se avete un buon numero di GP, Maximović, ex Napoli, oggi allo Spartak Mosca. Insomma, se avete un po' di GP o volete comprare un po' di monete d'oro per Maradona o per Figo, 123 giocatori sono tanti, ma non tantissimi. E poi probabilmente molti li avete già in rosa, se avete delle rose molto grandi. Quindi si può prendere Figo o Maradona tramite l'acquisto, tramite GP o monete d'oro, ma ci sono anche le challenge e poi ovviamente abbiamo detto del bonus. Allora, la Coppa Challenge Online questa settimana, andiamo subito a scoprire, tutto al vincitore, vediamo, più squad bonus, più 50% di GP, più un allenamento speciale, tutto questo cosa richiede? Di vincere una partita uno contro uno. Quindi niente male, niente di particolare, può ottenere ricompense se viene registrato in squadra 11 giocatori elegibili, che ci immaginiamo siano quelli presenti nella PES Selection. Bonus GP 150%, allenatore speciale per uno. Questo ovviamente per la prima vostra vittoria nella Challenge Online. Dopo la seconda sarà ricompensata con soli 500 GP. Poi andiamo a vedere la Challenge Contro Com, queste sono le Challenge Online sempre disponibili. Challenge Contro Com ci saranno squadre legate a Figo e Maradona, quindi probabilmente ci potrebbe essere il Real Madrid, ci potrebbe essere il Napoli. Allora, Coppa Challenge Contro Com, Figo Challenge, Maradona Challenge. Eccole qui. Allora, vediamo un po'. La Maradona Challenge, dovrai vincere tutte e tre le partite ed il premio sarà un giro di agente, Figo Maradona più PES Selection dopo la nostra prima vittoria. Dovrebbe essere la stessa cosa con Figo, cambiano solo le squadre da affrontare. Andiamo subito a vedere. Ah, qui addirittura 4, non 3, però il premio è lo stesso. Sempre uno Contro Com, senza limitazioni e senza limitazioni. Ultima cosa da vedere, vediamo se c'è qualche allenatore con i nomi fake che mi fanno far sempre figuracce, perché non li riconosco tutti. Adesso vediamo, vediamo, vediamo. Finiti i caricamenti. Ecco qui, assumiamo allenatori. Vediamo un po' chi abbiamo. C'è Inzaghi, Simone Inzaghi della Lazio si riconosce subito. Pioli, l'allenatore della Fiorentina, anche lui senza foto, ma è proprio lui. Zamboni, invece, CM Burgundy, non lo riconosco in questo momento. Isidoro, allenatore della Bolivia. Oies, questo, Università di Cile, con tanto di foto. E poi altri allenatori, fra virgolette, minori, che in questo momento non riconosco. Un allenatore rumeno, Pamic e tanti altri. Comunque, Simone Inzaghi è un allenatore molto interessante, che sta facendo veramente bene con la Lazio. Allora, valutazione, voto a questo aggiornamento. Io un bellotto pieno, pieno in pieno, perché torna a Maradona, arriva figo in PES 2018. Il bonus prima vittoria, la doppia challenge contro Com. Si merita un bellotto, questo aggiornamento. E ovviamente, spero per voi che riusciate a prendere le due leggende. E soprattutto Maradona, perché ovviamente ha una valutazione maggiore di FICO. Bene, per oggi è tutto, però è tutto per PES. Oggi pomeriggio, alle 17, con il TG Tech di Simpli Radio, in collaborazione con Italia Talk Games, si vince un altro giocone per PlayStation 4. Ni No Kuni 2, il gioco di ruolo con grafica molto manga. Tutti i dettagli ritrovati, come al solito, su italiatalkgames.it. Non mancate, che è un bel premio da vincere. Bene, invece con PES ci troviamo sul canale YouTube giovedì prossimo, ma poi può essere pure che arriveranno altri filmati prima per qualche altro motivo. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere sempre di più, a essere iscritti al nostro canale e a seguire il nostro sito. Buon PES, buon campionato a tutti e a giovedì prossimo con gli aggiornamenti di PES. Ciao!